Mi sento le braccia come spaghetti. Infatti sembrano spaghetti. Di quelli sottili. Sta zitto. Su, ragazzi. Senti, abbiamo trovato queste in giro. In caso le volessi indietro. Grazie. Oh, cacchio! Questa parte è ancora vuota. Non hai ancora di tutto? Va bene qui? Ehi, questo è un posto adatto per disegnare. Bene così. Ehi, guarda. Dello spazio libero. Ehi, questo è un posto adatto per disegnare. Ah, bel lavoro. Non hai ancora dipinto qui? Oh, è carino. Questa è un posto adatto per disegnare. Questa è un posto adatto per disegnare. Qui c'è un posto adatto? Questa è un posto adatto. Questa è un posto adatto. Tu che sei? Ehi, Bomber, qui c'è del posto libero. Sì! Fantastico, amico. Dove sei? Ha funzionato. Andiamo. Sarò con te. Ok, Yash? Certo, Rospo. Mamma mia, è buio qui dentro. Andrà tutto bene. E non ha nemmeno un buon odore. Oh, colpa mia. Sipistralli! Non ci vedo, niente penschi. Non ti fanno mica male. Non c'è da preoccuparsi, credo. Non ho mai detto che i posti stretti mi rendono nervoso. Accidenti, fratellone. C'è qualcosa che non ti fa paura? Sì, tu. Niente patini qui. Troppo buio. Ehi, sembra che si stia allargando. È troppo lontano. Come faccio ad attraversarlo? Ehi, forse riusciamo a farti una rampa. Una rampa? Ma che... Oh, ho capito. Oh, ma... Date la mano per fare risolta. Troppo buio qui per il pain skater. Non ci vedo, niente pain skater. Eh, l'acqua fa ski. Passa su, sto a fare. Ragazzi, devo andare avanti. Allora noi cercheremo un'altra strada. Ma attenzione! Perchè non ho imparato a nuotare? Perchè non ho imparato a nuotare? Spallot? 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 Resistete! Sto arrivando! Spallot? Spallot? Oh no! Spallot? Ho fatto quella roba. Devo stare più attento. Un altro andato. Superfittura con san lusco. Spallot? 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 Eh, Ash! Siamo qui! Ora sono impegnato, ragazzi. Sì, l'abbiamo notato! Sì! Guardate! Questo è un dato. Questa è la parata. Non posso farmi distratti. Anarmi pare. Devo con timore a muovermi. Che chi è forte? Ok, adesso tra l'altro. Noi. 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 Ragazzi, lei è Luna. È merito suo se ci sono i disegni. Il pennello. I geni. Tutto quanto. lei pensa sia merito tuo, Ash. Comunque è piacere di conoscerti. Ash ti ha promesso di sistemare Deska, vero? Se l'avessi visto con i tuoi occhi. I suoi dipinti erano… Luna! Quell'oscurità non deve avvicinarsi a Luna. Non posso ancora dipinti. Servi la super pittura. Super pittura al 100%. Se costa mai poco a Aنا … Oltretto a Gini. Non è pieno. Oltretto, non è pieno. E proprio… Ecco, io看看. È una cosa che ti può fare. L'ambien. Un'altra cose di metà. È una cosa che ti senti. Un'altra cosa che ti senti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow. Proprio così. Dite che ora la gente inizierà a tornare? Perché non dovrebbe. Cioè è davvero parecchio fico. Oh cavolo, non me ne ero accorto. Adesso siamo in sei. Allora? Allora possiamo giocare tre contro tre a basket? Oh sì. Insomma, capisco se non vuoi vederci mai più. Ma dopo tutto quello che abbiamo passato... Non so, che ne dici Ash? Ci stai per un tre contro tre? Credo che preferisca disegnare, Chuck. Potremmo fare entrambe? Sì. issimo. Ma parma. Sì. Sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.